Festa dell'arma dei carabinieri lunedì a Salerno dove a livello provinciale si sono celebrati 209 anni dalla fondazione di quello che venne istituito come corpo dei carabinieri reali con le regge patenti nel 1814. La giornata celebrativa ha avuto inizio presso il comando provinciale dove si è tenuta una solenne commemorazione dei carabinieri Pezzuto e Arena, medaglie d'oro al valor militare alla memoria, brutalmente assassinati nel 1992 a Ponte Cagnano nel corso di un conflitto a fuoco con due criminali. Nella circostanza il comandante provinciale, il colonnello Filippo Melchiorre, ha deposto un omaggio floreale ai piedi delle loro lapidi. Le celebrazioni sono poi continuate nel tardo pomeriggio con la cerimonia militare presso il lido del carabiniere. Il colonnello Melchiorre ha consegnato gli encomi concessi ai militari salernitani che si sono distinti in operazioni di polizia e pubblico soccorso. Riconoscimenti sono stati assegnati anche a diversi carabinieri della compagnia di sala Consilina, in particolare quelli distintisi nell'operazione Febbre dell'Oro Nero che portò alla luce un'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di idrocarburi e la longa manos dei casalesi e del clan di Taranto sul Vallo di Diano. Nel suo discorso Melchiorre ha evidenziato quella che deve essere la bussola etica per un carabiniere, i valori di militarità, competenza, coraggio e umiltà che soli possono restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni. Ha quindi rivolto un pensiero ai 97 carabinieri del comando provinciale di Salerno che nell'ultimo anno sono rimasti feriti nel corso del servizio e ai 95 comandanti di tenenza e stazioni che hanno perseguito nell'ultimo anno l'80% dei reati denunciati. Hanno partecipato alla cerimonia le massime autorità provinciali, civili, militari e religiose e rappresentanze degli studenti delle scuole che hanno esposto scritti e disegni sulla legalità, valore trasmesso dall'arma tra i giovani con numerose iniziative.